Gettare un ancora oltre l'adereatico alla Camera di Commercio nazionale croata per supportarla nel processo di digitalizzazione delle imprese perché le difficoltà di un paese e del suo sistema economico si riflettono su tutto il territorio europeo e con questo scopo che ieri si è tenuta presso la sede della Camera di Commercio croata Zagabria è una giornata di approfondimento dei servizi digitali per la competitività delle imprese organizzata dall'ente camerale di Chieti Pescara attraverso la propria agenzia di sviluppo presenti tra gli altri il presidente Gennaro Strever e il segretario generale Michele De Vita anche il direttore del forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dell'Oionio è in collegamento tutti i vertici del sistema camerale italiano Certamente sì una giornata positiva abbiamo accettato l'invito della dottoressa Simici molto gentile quando è stata da noi a visionaria oggi abbiamo messo le premesse per una collaborazione tra i due enti camerali che sono convinto che porterà sviluppo tra i due territori molto importante sono soddisfatto di come sta andando la giornata e sono anche certo che ci sarà un futuro sviluppo tra la nostra Camera di Chieti Pescara e la Camera Croata Innanzitutto voglio ringraziare i rappresentanti della Camera di Commercio Chieti Pescara i rappresentanti dell'Union Camera Italia che oggi sono stati con noi in collegamento da Roma credo che le vostre esperienze, i vostri modi di lavorare nel settore della trasformazione digitale e tutti quelli processi che sono legati ad essa possono dare una veramente grande mano ai nostri tentativi di superare le sfide che sono davanti a noi è stata riconfermata la piena volontà da parte di tutti i vertici nazionali offerta durante visionaria a collaborare per il compimento del processo di digitalizzazione croato erano infatti presenti all'incontro di Zagabria oltre al segretario generale di Union Camere Andrea San Marco il direttore di Intec Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Antonio Romeo e Marco Vianello Project Manager di Infocamere in via di definizione dell'agenda lavori con un primo appuntamento già fissato il tavolo croato è stato infatti l'occasione per il segretario generale di vita di lanciare a livello nazionale la seconda edizione di visionaria Adriatic Innovation Forum che si terrà a Pescara dal 9 all'11 novembre 2022 la 22 e poi la 22 e poi le 2 e poi le 2 Grazie a tutti.